No, no, io sento... Ringrazio i presenti per la disponibilità data in un giorno, un sabato mattina, che notoriamente è un giorno di recupero, di riposo, per gli insegnanti soprattutto che in genere recuperano le loro fatiche settimanali. Quindi credo che sia assolutamente da sottolineare la disponibilità data alla partecipazione a questa attività. Il tema, tornare a casa in sicurezza. Come nasce? Un giorno si è presentato nella segreteria della scuola il responsabile dell'associazione Glicine. Sapeva che noi siamo da anni impegnati su tutti i temi che riguardano il benessere e la salute, ma soprattutto ciò che è intorno al disagio, alla disabilità, e ci ha proposto di avviare un'attività che riguardasse un recupero, o comunque un'attività di sicurezza e di prevenzione contro la violenza. Tornare a casa in sicurezza, ovvero creare una situazione, un deterrente rispetto a una violenza che tutti i giorni le donne subiscono nelle nostre strade. Premesso che era un tema assolutamente già trattato, che noi abbiamo assolutamente un grandissimo interesse in questo, mi è sembrato un matrimonio da fare immediatamente. Per cui il corso è già iniziato, abbiamo avuto i maestri Terlizzi, il generale Terlizzi e Sergio Ponticelli, che già hanno avviato l'attività. Siamo partiti in maniera sperimentata, aspettavamo una ventina di persone, se ne sono presentate, forse 50, 60 o giù di lì. Questo dà l'idea di quella che è l'attenzione, la sensibilità, ciò che la società si aspetta. Siamo partiti con la scuola, perché la scuola? Perché io credo che la scuola, ma soprattutto il mio interesse in quanto dirigente scolastico, è quello di mettere al centro della società la scuola. Questa è una scuola dell'infanzia, è una scuola primaria, che vede un momento di formazione assolutamente essenziale nel percorso di vita di un uomo, di una donna. Per cui dare contenuti, ma soprattutto dare significativi messaggi alle famiglie, significa in qualche maniera dare un contributo fattivo alla crescita del territorio. La scuola è al centro del territorio, noi siamo fortemente impegnati con i progetti ICF, con i progetti del recupero sociale, con i progetti delle disabilità, tutto ciò che in qualche maniera dà valore alla ricerca di un sistema di benessere. Non poteva sfuggire alla scuola, quindi avviare immediatamente questo progetto di difesa personale. Poi vi spiegherà il maestro Terlizzi specificamente, che non è un opporre violenza ad una violenza, ma cercare un contributo di natura di comunicazione, di filosofia, di comportamento rispetto ad una provocazione. Non poteva quindi non essere presa in considerazione l'esigenza di partire con un convegno. Il convegno che potesse mettere attenzione sulla centralità della donna. Partiamo dal 1945, quando nascono i diritti umani, la Carta dei diritti umani sancisce quello che è il diritto della persona, quello che stabilisce qualche cosa che è ancora metagoniata nella nostra realtà. Ci definiamo una società civile, ma suppongo che il nostro percorso sia ancora tanto lungo. Quindi oggi cercheremo di mettere a fuoco un po' i passaggi che riguardano questi aspetti. Vi presento da sinistra, anzi dalla mia destra, la dottoressa Bianca Desideri, la preside del Nitti Nunzia Campolattano, il presidente della nostra municipalità, e il dottor Rovito, criminologo, nonché dirigente scolastico. Il loro punto di vista sarà una sfaccettatura, un'angolazione, aspettiamo tra l'altro la dottoressa Coccia Avvocato, vicepresidente del Consiglio Comunale di Napo, che è molto impegnata sul tema delle varie opportunità. Credo che oggi non abbiamo grosse pretese se non quelle di mettere a fuoco e sviscerare gli aspetti di uno stesso problema, visti da angolazioni diverse, visti da competenze diverse, visti da chi questi temi li tratta e in qualche maniera li ha già affrontate. Quindi voglio ringraziare i presenti, voglio ringraziare tutte le associazioni che ci sono state vicine, il presidente dell'Università del Dottor Enzo Petrocco, il Club Unesco, che qui è presente il professor Danise, Telefono Azzurro, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici, la città di Pulcinella, che sono tutte associazioni che già lavorano con la scuola, che sono in protocollo di intesa con noi, perché riteniamo che sia fortemente utile dare un contributo di crescita. Questo è il quarto anno che mi vede presi di questa scuola, siamo passati attraverso incontri di psicologia, abbiamo affrontato temi di genitorialità, abbiamo affrontato temi della comunicazione nell'ambito delle disabilità, abbiamo affrontato un convegno con presenze autorevoli di docenti universitari per l'ICF, quindi questo è uno dei passaggi che riteniamo opportuni. Mi auguro che sia solamente un punto di riflessione, un momento di inizio, perché si possa sviscerare in maniera più approfondita e più attenta a tutte le tematiche che riguardano questi temi. Mi sembra doveroso ricordare la presenza dell'agguerrito gruppo delle alunne del Galvani, cioè si sono definite gruppo donne in rosa, voglio dire sono una minoranza, sono tante, non siete più minoranze mi sa, e quindi voglio dire è una presenza significativa, tante giovani che tendono a difendere la loro identità, qualche cosa che speriamo che possa realizzarsi veramente con un sistema di pari opportunità, dove la donna concepita nel suo ruolo familiare, nel suo ruolo del lavoro, nella società, abbia la possibilità effettivamente di vivere in maniera adeguata il suo percorso di vita e che non si senta discriminato, ma che si abbia la possibilità di non dover sentire più di episodi di femminicidio o episodi di varia natura di violenza che tutti i giorni oramai fanno notizia nei nostri giornali. Quindi passo la parola al Presidente della Municipalità, eravamo in attesa anche dell'assessore del Comune di Napoli per le pari opportunità che dovrebbe arrivare, appena arriva. Intanto passo la parola al Presidente, nostro gradito ospite, anzi probabilmente non è manco più ospite perché oramai è di casa, il nostro Presidente è il Dottor Giorgio De Francesco. Grazie, mi fa piacere che mi considerate di casa, ho il mio ufficio peraltro a pochi passi da qui, quindi vi guardo dalla mia finestra tutti i giorni mentre lavorate in questa splendida scuola, non tanto esternamente, ma come contenuti e come programmazione veramente eccellente. E sono di nuovo onorato di essere qui per questa occasione particolare che mi vede fortemente convinto dell'iniziativa, infatti quando me l'hanno presentata in Municipalità ho subito dato la mia adesione, la mia partecipazione e il mio contributo. Anche se devo dire, riflettendo tra ieri sera, stamattina, poi coincidenza strana, ospite mio cognato da Torino che lavora al Ministero di Grazie e Giustizia che si occupa proprio nel settore di violenza sulle donne, mi ha raccontato tante cose mentre facevamo colazione e la riflessione che facevo premesso l'importanza di questo corso e di questa partecipazione, poi dirò qualcosa sulla partecipazione perché vedo tantissime belle ragazze. E' triste pensare di dover fare un corso di autodifesa perché questo presuppone che ci sia una violenza. Perché noi siamo costretti a fare un corso di autodifesa per le ragazze, per le donne in genere? Perché evidentemente ci sono ancora troppi atti di violenza rivolti verso quello che forse ingiustamente viene ancora definito il sesso debone. I dati sono drammatici, ancora non passa un giorno diciamo che la cronaca nera non ci racconta di una violenza su una donna e ahimè spesso si traduce anche in un omicidio. E' la cosa ancora più grave, più drammatica che spesso questi episodi di violenza avvengono proprio nelle mure domestiche, tra mariti, fidanzati e questi sono dati veramente che ci devono far riflettere. E quindi per questo l'importanza poi di questo corso che avrei voluto evitare probabilmente perché se potevamo fare un altro corso sempre dedicato magari alle donne, ma un corso più bello, più… e invece il fatto che ci sia ancora tanta violenza assurda, forte sulle donne ci costringe stamattina ad affrontare questo tema e a sviluppare questo corso al quale credo parteciperanno in tanti e quando potrò cercherò di seguire anche io. Dicevo ho visto tantissime belle ragazze, mi fa piacere. Vedo che avete anche una maglia, credo che sia dell'associazione, mi dispiace che ci siano pochi ragazzi, probabilmente avremo bisogno di far ascoltare anche ai ragazzi, ai maschi, ai cosiddetti maschi, quello che significa la violenza sulle donne, quello che succede nella psicologia di una donna, di una ragazza che si sente minacciata da un amico, da un fidanzato, da un marito. Sarebbe importante alimentare la presenza anche degli uomini, di cosiddetti maschi, perché vedete la nostra cultura purtroppo, soprattutto qui a Sud, dobbiamo dirlo, è buono il corso che noi ci accingiamo a fare, che è già iniziato, ma dobbiamo lavorare molto sotto l'aspetto culturale, perché ancora in tante parti del nostro Paese, soprattutto al Sud, la donna è ancora vista come un oggetto del desiderio, come un qualcosa da sottometto, da governare e invece non è così. L'assessore alle pare opportunità non è ancora arrivato, però lei potrebbe spiegare meglio di me come veramente ci sono ormai tante battaglie, noi dobbiamo continuare su questa linea per affermare questi principi sacrosanti, delle pare opportunità, pare dignità nel lavoro, nella scuola, nella società a qualsiasi livello, nella politica, ci sono ancora troppe e poche donne che hanno ruoli importanti anche in politica e questo dobbiamo lavorare tutti insieme per migliorarlo. Quindi mi auguro che questo ci faccia fare un passo avanti, che come diceva il Preside non è un corso di violenza contro altra violenza, non sarebbe questo l'obiettivo giusto, ma è quello di prepararci, ahimè, a combattere un certo tipo anche di atteggiamento violento, di un atteggiamento psicologico, che tante volte è precursore poi di un atteggiamento violento fisico. E quindi mi auguro che in tante partecipate e soprattutto mi auguro che vengono ad ascoltare anche dei ragazzi, chiudo dicendo che è sempre stata la violenza sulle donne, ma che ci sia ancora tanta violenza nelle donne nel 2013 è qualcosa che ci deve far riflettere, mentre abbiamo fatto progressi enormi nella scienza, nella tecnologia, nell'informazione, su certi temi invece l'uomo sembra, e noi dobbiamo riflettere su dei messaggi culturali che spesso ci vengono propinati, due attualità, vedo qua qualche giornale, il processo Rubi, Bunga Bunga, tutta questa strumentalizzazione della donna, guardate, sembrano argomenti frivoli o politici o di strumenti a situazione politica, ma si inculcono nella mente magari anche dei più giovani, delle persone, dell'utilizzo della donna a scopi sessuali o a qualche altro tipo di scopo e noi dobbiamo combattere proprio questa cultura che è figlia di una politica errata, sbagliata, ma che invece poi condiziona anche i nostri atteggiamenti quotidiani, magari involontariamente, ci ritroviamo a ripetere le stesse frasi che ascoltiamo volgarmente nei talk show, nei nostri uffici, con le nostre colleghe, ed è un messaggio negativo che spesso ci fanno passare e quando sentiamo magari banalizzare da alcune donne, chiedo scusa alle donne presenti, delle volte alcune donne banalizzano proprio questi concetti, questi eventi, questi episodi, definendoli magari, e questo è molto grave, quando proprio una donna magari è costretta probabilmente a difendere certi episodi che, mi ripeto, sono ormai all'ordine del giorno su tutti i quotidiani, è difficile e brutto e per questo noi dobbiamo combattere, e ringrazio i prestiti presenti, gli insegnanti, perché so che fanno un lavoro eccellente anche su questo, combattere questo aspetto culturale, che è proprio precursore poi di tante violenze che si manifestano anche a livello fisico. Io vi ringrazio e mi auguro che questo corso abbia veramente tanti aspetti positivi, quello di formare tante donne, tante ragazze con un'autodifesa forte, ma soprattutto a cambiare la mentalità di tanti maschi, i cosiddetti maschi uomini. Va bene? Grazie e buona giornata a tutti. Grazie al nostro Presidente. Iniziamo, entriamo nell'ambito, nel merito del nostro convegno. Diamo la parola e avviamo i lavori. La dottoressa Coccia è arrivata. Le diamo lo spazio per riposarsi un attimo, facciamo fare il primo intervento della dottoressa Bianca Devisite, che avvierà e andrà a focalizzare gli aspetti legati alla violenza in famiglia. Grazie, ringrazio il Presidente San Giorgio e tutti voi presenti oggi qui. Il tema che andiamo a trattare è un tema particolarmente delicato, ed è quello della violenza sulle donne, in particolare in famiglia. Ogni giorno noi vediamo dai mass media continue notizie di violenza nell'ambito della famiglia. Nell'arco dello scorso anno i dati sui femminicidi, così vengono definiti ora. Gli omicidi in famiglia si attestano su 124 vittime, il 60%... Interrompiamo un attimo. Allora dicevo che praticamente nello scorso anno si sono verificati 124 omicidi nell'ambito familiare, dati veramente allarmanti, perché sono il segno di un profondo disagio che vivono le famiglie a tutti i livelli. Non c'è in questo gruppo di dati una specifica sulla tipologia di famiglia dal punto di vista sociale, culturale o economico. Il fenomeno è trasversale. Quindi questo rappresenta un vero e proprio dramma sociale che mina l'integrità sia delle persone che dei nuclei familiari e che ha dei forti riflessi sociali nell'ambito sociale in quanto si riverbera sia nel lavoro che nella scuola che nel continuo agire della società. Diciamo che la violenza sulle donne viene definita anche violenza di genere, in quanto parliamo proprio di violenza di genere perché mette in evidenza una dimensione legata proprio al genere, quindi o all'uno o all'altro genere. Nel nostro caso il genere più debole viene definito quello femminile e la situazione poi di violenza è maggiore da parte dell'uomo sulla donna. Questo è un fatto che ha le sue radici culturali e si perde nella notte dei tempi. La dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne è appena del 1993, quindi diciamo che seppur sono passati circa 20 anni è comunque abbastanza recente e descrive la violenza contro le donne come qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provo e che io possa provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Questo è molto importante come definizione in quanto specifica per gli operatori e per le persone quello che rappresenta questa tipologia di violenza. Purtroppo nessun paese, neppure quelli definiti più civilizzati sono esenti, come abbiamo visto dai dati che riguardano il nostro paese, sono esenti da questa problematica. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno una donna su cinque nella sua vita ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo e purtroppo, come ricordavo prima e come ricordavano il Preside e il Presidente della Municipalità, questi abusi avvengono nell'ambito strettamente familiare. Sono abusi perpetrati o dal coniuge, o dal padre, o dal fratello, o dal marito, o addirittura dai fidanzati. Le ricerche che sono state messe in campo nel corso di tutti questi anni hanno evidenziato l'esistenza di vari tipi di violenza. La violenza domestica in particolare viene esercitata, come dicevamo, nell'ambito familiare e poi esistono gli atteggiamenti persecutori legati alle percoste, gli abusi sessuali, i delitti d'onore, l'uxoricidio passionale o premeditato e poi la tipologia dell'incesto, oltre a quelli legati ai crimini di guerra. Le donne vengono usate come armi per cancellare praticamente, per una sorta di pulizia etnica. Il termine femminicidio purtroppo rende immediatamente presenti i termini di questo grosso fenomeno e di questo dramma. In India e in Cina, per esempio, il femminicidio si concretizza con l'aborto selettivo che praticamente seleziona uno dei due generi, dando la preminenza alla nascita del maschio, in quanto viene ritenuto più importante per l'andamento della società e viene ritenuto maggiormente utile alla produzione. Importante anche un passaggio che riguarda quello che può essere la rete, cioè il mondo internet oramai, poi ne parlerà approfonditamente la dottoressa Campolattaro, la rete diventa veramente un fenomeno di rischio altissimo, soprattutto per le giovani generazioni, in quanto vengono catturate e con tutta probabilità possono trovarsi a contatto con degli stalker o con dei criminali che possono anche coinvolgerli in situazioni pedopornografiche. Per quanto riguarda la violenza all'interno della femminile, dobbiamo dire però che anche dal punto legislativo in questi ultimi anni si sono fatti dei passi in avanti, seppur minimi. Nella precedente legislatura c'è stata l'approvazione della legge sullo stalking che rappresenta un passo avanti per garantire un minimo di tutela e l'attenzione del governo che da poco si è insediato con il Ministro Idem per la realizzazione della task force che organizzi e possa analizzare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, sembra poter dare anche in un momento di crisi economica in cui le politiche di genere vengono messe molto da parte, ma non del tutto appunto questo task force nel momento in cui si realizzerà potrà essere di grande ausilio anche per l'emanazione di futuri provvedimenti legislativi che possano garantire la tutela delle donne sia nell'ambito familiare che nell'ambito sociale. Quindi questi sono passaggi molto molto importanti. L'Organizzazione del Mondiale della Sanità ha distinto tre tipi di violenza nell'ambito familiare. La violenza contro il partner che è quasi sempre contro la donna, la violenza contro i bambini, fenomeno gravissimo e la violenza con gli anziani. La sensibilità dell'opinione pubblica su queste tre grosse macro aree di violenza si è mano a mano modificata logicamente. Una prima fase è quella di attenzione sulla sindrome del bambino maltrattato, quindi la sindrome di Kemp e che si aggira intorno al 1960-61. Poi l'attenzione si è focalizzata sui movimenti femminili americani che hanno quindi portato all'attenzione della comunità internazionale la problematica delle donne. Siamo negli anni 70, negli anni 80 invece proprio con l'allungamento della vita delle persone e quindi con una maggiore presenza di anziani nell'ambito della famiglia abbiamo avuto la sezione del maltrattamento contro gli anziani. Siamo appunto nel 1980 e quindi abbiamo queste tre grosse problematiche che riguardano un unico grande problema che è la violenza nell'ambito delle mura domestiche. I numeri effettivi di quella che è la violenza in famiglia non sono noti perché sono praticamente legati alla volontà, alla segnalazione da parte delle donne o delle persone maltrattate di proprio una denuncia presso le autorità e quindi c'è una mancanza di consapevolezza nelle donne che è possibile denunciare e quindi allontanarsi o allontanare il partner dall'ambito familiare. Molte donne chiaramente non percorrono questa strada perché è una strada dolorosissima e significa chiaramente separare e distruggere sostanzialmente una famiglia che però è già distrutta perché nel momento in cui ci sono violenze tra coniugi, violenze tra partner in presenza di figli questi resteranno segnati per sempre perché assistono a continue violenze tra i genitori che chiaramente portano un impatto psicofisico notevole. Anche il passaggio legato alla segnalazione della violenza per le donne risulta non molto facile da fare, in quanto spesso una volta segnalato lo stalker o una volta segnalato la violenza in famiglia non c'è immediatamente un'attenzione, sostanzialmente si verifica solo nel momento in cui c'è un abuso fisico, un maltrattamento reale o si arriva addirittura all'omicidio. Quindi l'attenzione va soprattutto nell'analisi dei comportamenti e qui finisco l'intervento, i comportamenti e le famiglie e l'approccio immediato sul primo abuso, può essere uno schiaffo, può essere un atteggiamento violento, può essere un'esagerata ossessione o gelosia che molte volte le donne considerano comunque amore, ma in questo caso amore non è. Quindi l'attenzione particolarmente alle giovani che devono fare in modo che i loro partner le rispettino e che le considerino pari, perché pari sono in tutti i passaggi della vita e del lavoro e della società, per cui attenzione ai primi segnali in famiglia, ci si rivolge a uno specialista, ci si può rivolgere alle associazioni femminili o ai centri antiviolenza. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie. Ringraziamo la dottoressa Bianca Desideri per la sua preziosissima analisi, appare evidente che la violenza parte nella famiglia e parte assolutamente come elemento culturale, qual è la strada da percorrere? Quello di avere una maggiore attenzione per la persona, per avere una maggiore attenzione nell'ambito delle relazioni, dei comportamenti, la scuola assolutamente ha un ruolo essenziale, preeminente nel percorso formativo di un soggetto. Quindi penso che più che mai questo discorso si calli nell'esigenza di dare alla scuola questi compiti insieme a tutti i partner che in qualche maniera collaborano alla riuscita di questi obiettivi. Abbiamo adesso l'intervento della dottoressa Elena Coccia, avvocato Elena Coccia, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, nonché avvocato che si occupa specificamente di diritto della persona. Ci darà sicuramente un saggio ampio di quelli che sono gli elementi che riguardano questi contenuti, grazie. Buongiorno a tutti, vedo che qua davanti ci sono dei signori adulti, però di là ci sono tante belle ragazze e credo che il discorso vada indirizzato soprattutto a loro perché sono loro il soggetto della violenza, del maltrattamento e credo che più che altro loro vogliono sapere di fronte a un fatto concreto come comportarsi, più che la storia della violenza che pure è una storia pensata che comincia dalla Bibbia, comincia dal Codice di Ammurabi, quando venivano, se qualcuno denunciava in un caso di violenza, venivano sepolti sia il violentatore che la vittima. E anche nella Bibbia c'è un riferimento del genere, anche nella Bibbia si dice che se la donna era signorina, cioè vergine, allora aveva un trattamento migliore, ma se non era vergine, ovvero sia se non era sposata o se non era mai stata con un uomo, subiva lo stesso trattamento del violentatore. Insomma ce ne è voluto, ce ne sono voluti di secoli per arrivare al momento in cui si può dire che la violenza sessuale è entrata finalmente nella agenda politica, ma veramente centrata, non lo sappiamo perché tutti lo proclamano, anche la Presidente della Camera ultimamente ha detto che è nell'agenda della politica, quindi la prima cosa che bisognerà farsi sarà quello di tener conto appunto di questa che è diventata un'emergenza nazionale, dovremo vedere se questa volta però sarà vero. Perché dico questo? Dico questo perché ho cominciato ad occuparmi di violenza fin da quando frequentavo l'università, un po' come voi, no? Un po' come voi. Cominciato a occuparmi di violenza perché credo che nella vita di ciascuno di noi, e per questo vi invito poi ad avere un rapporto pieno, libero con le insegnanti, con gli adulti, con le amiche, con le mamme delle amiche, con chiunque, va bene? Ho cominciato ad occuparmi di questa materia perché fin da quando andavo all'università scoprivo che accanto a me c'erano studentesse, ragazze, nella cui vita c'era sempre stato qualcuno che almeno una mano sul seno o una mano sul culo l'avevano avuto da un parente, da un vicino, da un nonno. Si preoccupa, si preoccupa. Bene. E io stessa che quando facevo l'esame di diritto penale dovete sapere accanto a un librone grosso così c'era un librettino piccolo piccolo, la parte speciale del diritto penale che si chiamava la congiunzione carnale violenta ed era un libretto che chi l'aveva scritto si era anche molto, come devo dire, divertito, possiamo dire così, si era molto divertito perché aveva scritto tutte le modalità, tutti i modi, tutti anche quelle più impensabili di come si poteva avere una violenza, un contatto, una mano, un abuso, un segnale di abuso e cioè si era proprio divertito. Lì ho imparato tanti concetti e soprattutto tanti termini che prima non sapevo venendo dalla campagna e quindi non sapendo tante cose. Bene. Allora, alla fine perché questo studio così impensabile, così articolato, così approfondito? Perché quando io facevo l'università e mi sono laureata nel 1973 c'era una legge che si chiamava il codice Rocco e questo codice Rocco che cosa prevedeva? Prevedeva che una cosa era la congiunzione carnale violenta, ovvero sia la penetrazione nell'orifizio giusto, una cosa era tutto il resto. Per cui se una ragazza, una fanciulla, una donna veniva violentata nel modo come si ha il rapporto sessuale, ebbene veniva punito anche duramente. Se però aveva colpito altre parti del corpo con l'organo sessuale o con gli altri organi eccetera, veniva punito molto più lievemente. E dunque questa differenza che cosa comportava? Comportava che quando una donna faceva una denuncia, una donna, una ragazza, una bambina faceva una denuncia di violenza, di aver subito una violenza, veniva sottoposta ad un interrogatorio che era una cosa tremenda. Ecco, lo vedete? Manco a parlarne. Dunque, vabbè insomma non esageriamo. Ebbè, lo vedi? Sta sempre lì. Dicevo che quindi l'interrogatorio che subiva la persona, che aveva subito una violenza, era un qualcosa che a un certo punto la rendeva quasi vittima, perché il giudice doveva appurare per filo e per segno come si erano svolti i fatti, al fine di determinare se si era trattato di un abuso o se era di un atto di libidine violenta, si chiamava così, o se invece dovevamo parlare di una violenza vera e propria. Allora ci fu, io ero una ragazza un po' allegra come voi, o voglio sperare come siete voi, ovvero sia mi piaceva girare, conoscere, sapere, fare cose, come dice Nanni Moretti, eccetera. E quindi ero andata a Roma a fare la mia pratica forenze presso uno studio che allora era uno studio stupendo e meraviglioso ed era quella di Tina da Costena Bassi. Ebbene, mi capitò ancora da praticante di partecipare e conoscere quello che è rimasto l'emblema dello stupro più grande, più duro che ci sia mai stato, quello del processo del Circeo, dove due ragazze della Roma popolare furono attirate da gente bene, da ragazzi bene della Roma ricca, attirate in una festa dove andarono volontariamente, anzi devo dire loro si erano sentite molto gratificate, loro ragazze del popolo di andare invece in una villa al Circeo, una villa megagalattica, eccetera, ad andare a passare questa serata con questi ragazzi. Ma qui non solo vennero per ore violentate e torturate da tre individui, una di loro fu uccisa e l'altra non fu uccisa solo per caso, solo per caso perché credendola morta la misero nel cofano di una macchina e poi ritornarono verso Roma, lei si svegliò, si cominciò a lamentarsi ma era veramente quasi morta, qualcuno sentì questo lamento che proveniva dalla macchina, aprì il cofano e le salvarono la vita, per modo di dire. Perché dico per modo di dire? Perché è morta questa ragazza poi a 36-37 anni di cancro ma non ha mai superato lo shock e come poteva farlo di quella disavventura tremenda. Per notizie di cronaca diciamo poi che i tre fanciulli scapparono perché erano della Roma bene e quindi li fecero fuggire, uno di loro evase addirittura del carcere, lo beccarono uno di questi tantissimi anni dopo in Argentina, in Argentina quando c'era la dittatura dei colonnelli fu il riparo di molti assassini di tutta l'Europa, di tutto il mondo, sia nazisti che di altro genere, lo beccarono, lo portarono in Italia, lo incarcerarono, qualche anno dopo gli diedero un permesso per uscire e lui ne approfittò per uccidere, violentare ed uccidere una mamma e una figlia di un suo compagno di carcere. Questo per fare un po' di cronaca. Ora però che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che quel processo fu un processo che non passò alla storia tanto per la inaudita e inumana violenza che fu esercitata su quelle due ragazze quanto per gli avvocati difensori dei tre assassini. Perché gli avvocati difensori dei tre assassini si comportarono nei confronti delle ragazze dando loro un'ulteriore violenza. Ne sentimmo in quell'occasione di tutti i colori e sentimmo anche la famosa frase che poi era stata attribuita addirittura a un ministro fascista della nostra povera Italia, De Marsico, ovvero sia il fodero di una spada, lo stringere questo fodero della spada e infilare la spada nel fodero e dite vedete? Se il fodero è ben stretto la spada non penetra, quindi c'è stato consenso. Ecco si disse anche questo in quell'occasione. L'Italia reagì bene perché era il periodo in cui ancora si reagiva, non come adesso che stiamo tutti quanti così sbattuti per terra. L'Italia reagì benissimo, le donne reagirono benissimo, reagirono e raccogliemmo un milione di firme, raccogliemmo un milione di firme sotto una legge popolare che in un giorno fantastico, meraviglioso, sopra delle carriole rivestite vestite di carta rosa portammo in centinaia di migliaia di donne, portammo al Parlamento perché finalmente facesse una legge adeguata sulla violenza sessuale. Fu una di quelle cose bellissime che non si dimenticano mai più nella propria vita ed era l'anno 1978. Era l'anno 1978, io non so se qualcuno di voi ha visto le fotografie di come si vestivano le donne in quell'epoca, avevano dei gonnelloni lunghi, avevano degli zoccoli, si vestivano pieni di fiori, era un'allegria incredibile e infatti fu una grande allegria portare queste firme, questo milione di firme al Parlamento, ma dovemmo aspettare niente meno fino al 1996 perché una legge sulla violenza sessuale venisse realmente fatta. Quindi 17 anni credo, faccio bene il conto? 17 anni. 17 anni per avere una legge che unificasse i due reati, il reato dell'atte di libidine violenta con la violenza sessuale e quindi sottraesse le donne a questo interrogatorio che risulta poi essere una vera e propria violenza e che anzi introduceva anche la prova anticipata, l'incidente probatorio, di modo che fino a 16 anni chi denuncia una questione del genere non vedrà mai in faccia il suo abusante e il suo violentatore e credo che questo per voi sia una grande, come posso dire, una grande vittoria. Dunque, dopo di allora fu più semplice denunciare, fu più semplice quindi affrontare i processi, fu più semplice anche portare alla sbarra e vedere le persone condannate. E a questo punto mi piace ricordare la prima causa che fu fatta a Napoli sulla violenza subita da una bambina di 10 anni. Bene, la voglio ricordare perché fu emblematico. eravamo riusciti a convincere l'allora procuratore della Repubblica a preparare una stanzina con un divano, con un tappeto, con dei giocattoli dove veniva la vittima, la bimba e veniva ascoltata non direttamente dal giudice, dal poliziotto, dall'avvocato, che sono sempre delle cose che mettono una certa ansia, ma veniva ascoltata da una psicologa con delle domande che erano state preventivamente preparate da avvocati, giudici, avvocati difensori, avvocati partecivili e tutti. Bene, allora che cosa facemmo questa prima volta? Non posso mai dimenticarlo, era un luglio, un luglio caldissimo. Vi immaginate un luglio al centro direzionale di Napoli che tutto è vetro e cemento, quindi un caldo mostruoso. In questo caldo mostruoso, in una stanza, era il giudice con i poliziotti, con noi avvocati, con gli avvocati difensori, con un po' di persone che erano venute a sentire, parenti eccetera, nell'altra stanza che non ci vedeva, non ci poteva vedere mentre noi vedevamo per uno schermo televisivo la ragazza con la psicologa, e era la bambina, quindi in totale non avrebbe mai visto, non vedeva assolutamente il suo stupratore, che era il suo padrigno. Bene, la psicologa ci dice, posso utilizzare delle bambole? E noi diciamo, se servono a raccogliere la prova, va bene, va bene, se non che lei arriva e dice, Antonella, guarda, ti ho portato uno scatolo di bambole, e lei fa, sono per me, ma che bello, fammi vedere, e comincia a giocare con queste bambole, intanto il tempo passava, noi sudavamo, cominciavamo a porci tante domande, forse abbiamo sbagliato la tecnica, forse abbiamo sbagliato la psicologa, forse abbiamo sbagliato tutto, forse è sbagliata la legge, e qua non succede niente, sta bambina gioca, e noi stiamo qua, tutti questi adulti a guardare sta bambina che gioca, ma insomma, così, ma a un certo punto la psicologa dice, allora Antonella, ci vogliamo dare dei nomi, io uso dei nomi diversi ovviamente da quelli reali, perché oggi è una splendida fanciulla questa ragazza, che ho chiamato Antonella, allora, vogliamo dare un nome a queste bambole? Sì, fa lei, e comincia a dire, questa si chiama Maria, la mamma, questo si chiama Gianni, il padrigno, questo si chiama Lilli, fratello, e questa sono io, Antonella, allora, ecco, ecco che Gianni entra da Antonella, e comincia a picchiare, entra da Maria, e comincia a picchiare Maria, e Maria scappa, e Maria scappa, e allora io e Lilli ci nascondiamo sotto al letto, e poi lei scappa, e poi lei scappa, allora lui mi prende questo Gianni, mi prende per la mano, mi porta fuori, e a questo punto, ecco lui, ecco su di me, noi sudavamo, vi assicuro, sudavamo oramai non più per il grande caldo, ma per l'impressione incredibile che spero che in minima misura riesco a trasmettervi, e a un certo punto questa bimba prende questo giocattolo che si chiama Gianni, lo straccia in mille pezzi, se lo mette sotto i piedi, lo schiaccia e dice, io non voglio stare qui a giocare, io voglio parlare col giudice, io voglio parlare col giudice e voglio dire quello che mi è stato fatto, a questo punto vi assicuro, piangevamo tutti, a partire dai poliziotti che tanto tenere in genere non sono, e neanche i giudici sono tanto tenere, e manco gli avvocati difensori sono tanto tenere, però piangevamo tutti, e allora io dico al giudice, giudice vada, vuole parlare con lei, ma non so se è previsto dal protocollo, ma lei va dallo stesso, di fronte a questa richiesta così, come si fa a non andare? E il giudice va, e lei dice, tu sei il giudice? Sì, perché hai questa faccia bianca? Perché sono molto stanca? Guarda, anch'io sono stanca, mi sono stancata di giocare, di parlare con tutti di questa cosa, sai, fammi un piacere, trovami due genitori nuovi. Qualche anno dopo, una mia conoscente mi chiamò e mi disse, vuoi passare l'8 marzo con noi? Io dissi, ma veramente, insomma, l'8 marzo, non lo so, preferrei forse passarlo, che ne so, facendo una cosa, ti prego, vieni da noi, c'è qualcuno che ti deve fare una domanda, questo qualcuno era Antonella, era diventata una ragazza splendida, meravigliosa, aveva trovato due genitori nuovi e soprattutto aveva superato il lutto di quella sua vicenda e adesso voleva sapere, e voleva sapere da me, perché poi era stata allontanata anche dalla sua mamma e non solo dal suo padrigno, che era stato il suo abusante. Ed io non si è più che rispondere, perché non sempre alle domande ci sono delle risposte. Allora, vi ho raccontato questo episodio per dire che poi le cose cambiano, evolvono, le cose, nessuno deve vedersi in trappola, nessuno di voi deve sentirsi in trappola, nessuno di voi deve vedere che la vita è finita, che quest'episodio la sporca, che quest'episodio non può essere riferibile, no, deve essere riferibile, deve essere raccontato, deve essere raccontato alla mamma, all'insegnante, alla psicologa, a chiunque, alla madre dell'amica, deve essere detto, deve essere detto perché poi deve essere affrontato e deve essere superato. E ricordatevi, io, forse qualcuno di voi lo sa, ho partecipato a quella trasmissione che si chiama Amore Criminale, ebbene, quello che è criminale non è amore, quello che è criminale non è amore, chi vi picchia non vi vuole bene, io lo so, voi pensate, ma guarda questo come mi ama, mi ama tanto, c'è anche una canzone, no, che appartiene alla nostra tradizione, no, la canzone di Bambanelli e Coppi Quartieri, no, dice, ma Amoregni è mazzata, ho troppo bene, non è vero, è una stronzata, va bene? È una stronzata, va bene? Allora, dovete sapere che chi vi tocca anche soltanto con un dito non vi ama, vi considera un oggetto, vi considera un suo elemento di possesso, allora, prima che la storia diventi troppo pesante, rompete, volete denunciarlo? Fatelo, non volete denunciarlo? Non fatelo, ma rompete! Al prima, la prima volta che vi chiama a telefono per più volte e vi minaccia? parlatene, parlatene! E agli adulti che vedo qua, che immagino insegnanti, che immagino educatori, educatori in senso lato, io dico, c'è chi può e chi deve, voi dovete, voi dovete raccogliere tutti i gridi di dolore che si alzano da bambini, da ragazze, da fanciulle, da chiunque, voi dovete, nessuno si nasconda dietro il ruolo e chi deve farle le cose le faccia, solo rispettando ciascuno il proprio ruolo possiamo pensare di allontanare questo fenomeno mostruoso che in questa settimana ha anche, ne ha portato la nostra campania al primo posto in Italia tra maltrattamenti ed omicidi e francamente non ce lo meritiamo perché siamo tutte persone per bene e lo dobbiamo assolutamente rappresentare. Grazie. Non ci sono parole, penso che dovremmo tutti insieme raccogliere un po' questo grido di dolore, così come è stato definito ma soprattutto risvegliare le nostre coscienze, forse tutti quanti noi nel nostro privato, nelle nostre cose potremo dare un segnale forte e tutti insieme dare un contributo valido perché ci sia veramente un processo serio di pari opportunità, siamo lontani da quello che dovrebbe essere il contenuto di una società civile basta vedere ciò che tutti i giorni ci passa nelle televisioni, mass media e in certi messaggi anche della nostra politica quindi penso che forse c'è tanta strada da fare, qui non abbiamo nessuna pretesa se non quella di parlare e forse di mettere una pulce nell'orecchio, ci sono stati tanti segnali forti soprattutto alle giovani penso che la denunzia, ma la parola della verità come sempre è rivoluzionaria quindi probabilmente basta partire da questo e dire ciò che accade con fermezza e esprimendo la verità per poi dare un significato vero a quello che oggi abbiamo fatto un intervento veramente pregnante, ci è emozionato quindi voglio dire, stavo guardando i volti di presente penso che è uno di quei giorni che restano nella memoria di tutti quindi veramente la ringrazio in nome della scuola e di tutti i presenti passiamo la parola alla preside Nunzia Campolattano, dirigente scolastico del Nitti che impegnata nelle varie opportunità dirà da sola tutto quello che lei fa nella scuola e in tutte le sue esperienze personali, prego grazie pregherei la dottoressa se è possibile mettere la prima immagine sono la preside dell'istituto del Nitti ma mi onoro anche di sedere nella commissione nazionale delle pari opportunità, presso il Dipartimento delle pari opportunità alla presidenza del Consiglio e abbiamo posto al centro delle politiche di intervento l'attenzione proprio alle giovani generazioni perché è da lì che bisogna partire ma mi si consenta di fare un ringraziamento alla dottoressa Coccia io sono, devo dire, sto tremando, emozionata perché lei rappresenta la storia del femminismo italiano che sicuramente è stata un baluardo delle battaglie di noi donne e oggi è importante che voi giovani donne riprendiate la consapevolezza del ruolo nell'ambito sociale perché stamattina lo spunto è parlare di questo bel progetto che viene promosso dall'Associazione Glicine che è una delle tante forme di prevenzione che la società deve portare avanti può portare avanti ma sicuramente l'asse prioritario parte da che cosa? dal cambiamento di un approccio culturale nella società e cioè un approccio culturale che non deve essere più un approccio basato sulla quella che è l'ideologia della vera del possesso, della cosificazione dell'essere umano ma piuttosto una politica di rispetto della dignità umana come ci detta la Costituzione e quindi quando si parla di dignità umana si parla di uomo e di donna indifferentemente e naturalmente le politiche di genere sicuramente in un momento di crisi sono sicuramente più difficili da percorrere per problemi di economia ma non per questo vengono archiviate o messe da parte posso rassicurare la dottoressa Coccia che stiamo lavorando al tavolo perché naturalmente questo che già è sedimentato nella storia e nel nostro immaginario collettivo cambi che non si possano più verificare violenze che sono state effigiate e tratteggiate dalla storia dell'arte in maniera diversa già qui vediamo come la mano di Caravaggio è una mano distaccata è una mano che fotografa la violenza ma non è una mano partecipe se andiamo alla immagine successiva perché partire da queste immagini forti questa è un'immagine di una donna del passato una vostra sorella, una nostra sorella che ha subito violenza e che partecipa con pathos inenarrabile, ineguagliabile nel trasferire con forza evocativa quello che è il dramma che ci ha raccontato veramente guarda io sto ancora tremando di quello che tu hai raccontato quelle che sono le esperienze di una donna che subisce violenza ma da dove parte tutto questo? cioè perché noi dobbiamo cambiare la cultura della nostra società? perché la nostra cultura è figlia di una cultura che ha un impianto di tipo aristotelico che dice che il maschio dal libro primo della politica è per natura migliore la femmina peggiore l'uno atto al comando l'altra ad obbedire penso che queste parole potrebbero essere un epigrafe posta su tutte le tombe delle donne violentate come atto d'accusa rispetto a quello che è stato il padre della cultura cosiddetta occidentale voluta una cultura che pone l'uomo e la donna e soprattutto la donna oggetto di possesso e non soggetto di scambio libero e assunto come scelta consapevole di approccio comunicativo affettivo con l'altro genere e quindi bisogna ricostituire ripartire da quello che siete voi giovani dalle basi l'educazione alla differenza di genere ma prima di avviarmi nel discorso di ciò che si fa oggi perché si sta facendo molto ed è per questo che è importante parlarne perché in Italia si sta lavorando proprio per le giovani generazioni in particolare al termine vi dirò le politiche di intervento avviate dal Dipartimento delle Pari Opportunità e del Ministero che sono state particolarmente sollecitate dalla Commissione dove io seguo mi onoro di sedere come Vicepresidente e naturalmente per poter comprendere quali sono le politiche che vengono attuate nella nostra società bisogna fare un attimino al punto di che cosa sono quali sono gli organismi che lavorano per portare al rispetto della dignità umana e alla pariteticità dei ruoli allora innanzitutto abbiamo il Ministero delle Pari Opportunità che è diciamo di neo istituzione se possiamo dire non ha una storicità come il nostro Parlamento negli anni 80 dopo le battaglie fatte dalle nostre sorelle femministe che hanno praticamente portato avanti battaglie per voi ragazze perché oggi ci sono dei risultati importanti dalla parte delle donne di cui poi parlerò brevemente si arriva alla Costituzione del Ministero il Ministero con due bracci operativi uno per le politiche il Comitato Nazionale di Pari Opportunità presso il Ministero del Lavoro quindi tenete presente l'asse lavorativo e l'asse socioculturale nonché l'asse che coinvolge tutte le politiche comunque di intervento dalla parte delle donne e quindi la Commissione Nazionale di Parità che si articola territorialmente attraverso una serie di comitati che partono da quello nazionale presso il Ministero del Lavoro fino a arrivare ai livelli più ravvicinati quelli comunali dove naturalmente si parla e si discute di politiche dalla parte delle donne per incentivare proprio l'intervento della donna nel mondo lavorativo e qui saluto in particolare le donne del Galvani perché sono una minoranza all'interno di un mondo che è stato sempre squisitamente maschile perché il Galvani è un istituto tecnico industriale con una spinta molto forte verso quello che è l'applicazione al mondo del lavoro quindi vedere che ci sono ragazze che scelgono questa strada fa bene è bello grazie dall'altra parte perché perché normalmente nel nostro nella nostra società certe professioni erano e sono ancora appannaggio dei maschi diciamocelo soprattutto tutto il mondo dell'applicazione elettronica elettrotecnica industriale to cure diciamo così poi tornando al discorso dei comitati abbiamo l'altro comitato che si è costituito fin dal sorgere del ministero delle pari opportunità che è la commissione delle pari opportunità tra uomo e donna presso la presidenza del consiglio praticamente la commissione è ha cambiato diciamo nel tempo e oggi è istituita è stata riformata nel 2003 e vi è stato nel 2004 l'insediamento della nuova commissione che è costituita dalla presidente che è il ministro attualmente il ministro sapete che è Giuseppe Idem dalla vicepresidente che mi onoro di essere stata nominata da una segretaria e tutti i rappresentanti del mondo datoriale del mondo sindacale e del mondo associativo a livello nazionale che cosa svolge questa commissione formula proposte al ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione sia diretta che indiretta nei confronti delle donne e conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori nella vita politica economica e sociale e segnalare le relative iniziative al ministro e qui vengo al punto quindi questa commissione ha un ruolo nodale nelle politiche di pari opportunità per il rispetto della dignità umana della donna naturalmente in tutti i campi dello scibile in tutti i campi della nostra società e nell'ultima diciamo articolazione interna di lavoro i gruppi di lavoro che sono stati costituiti dalla commissione sono quattro uno che riguarda l'analisi diciamo di tutto ciò che viene fatto come dire lo stato dell'arte a livello nazionale quindi annualmente c'è un rapporto cosa fanno le regioni cosa fanno gli enti legali cosa fanno gli enti datoriali cosa fanno le banche e quindi una sorta veramente di collegamento e di coordinamento che quali sono le politiche di intervento a livello europeo quindi delle nostre nazioni sorelle e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e abbiamo voluto dire conciliazione e condivisione perché il problema del collegamento tra tempi di vita e di lavoro non è solo e non deve essere solo in rosa ma anche in blu anche del partner anche del compagno ma queste in particolare ci riguardano e qui naturalmente per la stretta economica creditizia purtroppo tutto quello che era un grande tesoretto che derivava dall'inalzamento dell'età pensionabile di noi donne che doveva arrivare alle politiche di intervento purtroppo per la situazione economica che abbiamo è stato ridotto moltissimo però vi posso dire che comunque dalla commissione dal dipartimento aiuti sono arrivati nello specifico alla campagna è arrivato un milione e quattrocento e passa euro di aiuto per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro proprio l'anno scorso sono stati erogati e un punto importante che mi tocca nella duplice veste di preside e di vicepresidente è la cultura di genere che non c'era mai stata come diciamo al centro delle politiche della commissione di pari opportunità nazionale non era presente abbiamo voluto fortemente un gruppo di noi consigliere e consigliere che derivavano dal mondo della scuola ma anche dal mondo imprenditoriale io ho trovato un grosso aiuto dalla rappresentante della fondazione Belisario pensate quindi mondo imprenditoriale proprio to cure perché hanno capito che la donna uno ha una grande un grande patrimonio di know-how da mettere a disposizione della società ha un grande know-how di competenze perché le donne mediamente nel mondo della istruzione e formazione raggiungono livelli molto più alti dei maschietti anche se poi si fermano strada facendo nei ruoli chiave troviamo pochissimi nei board troviamo amministrazione poche donne però la legge golfo nel 2011 ha voluto porre dare risposte a questo problema andando a disegnare ad imporre diciamo la presenza nei consigli di amministrazione di certe percentuali di donne e quindi al di là di questo andiamo diciamo nello specifico delle politiche di intervento pregherei prima di affrontare il problema della differenza di genere e dell'educazione di genere di far partire il filmato che è dalla parte delle ragazze ed è stato tratteggiato da vostre compagne un filmato bellissimo che racchiude in sé tutto quello che è proprio il senso stesso della violenza tra mura domestiche e nell'amore con l'altro differentemente uguali di attività di attività che è stata di ingresse alla seconda successiva orれ Grazie a tutti 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 Grazie a tutti